La gestione del controtransfert è uno degli argomenti più difficili nell'ambito della psicoterapia. Intanto bisogna precisare che ogni terapia fa storia a sé. Ogni paziente porta nel setting problemi e bisogni specifici, ricreando vicende personali. Sta a noi a cogliere tutte queste variabili senza pregiudizi e trattarle nella maniera più utile per chi si affida alla cura psicologica. Come dice Cremerius, per ogni nostra scelta tecnica dovremmo porci una domanda fondamentale. Quello che faccio, lo faccio perché ne ho bisogno io o perché giova al paziente e quindi alla cura? E cosa giova alla cura? Giova innanzitutto quella che carotenuto chiama l'atmosfera che si sviluppa. Col passare del tempo l'aria del setting si fa gravida di sentimenti trasferali e controtransferali. Si erotizza in un modo che impone delle distinzioni caso per caso. E noi dovremmo distinguere di volta in volta. Da un lato il versante dell'erotizzazione difensiva che andrà interpretata e trattata come tale. E dall'altro il versante amoroso potenzialmente utile che invece va accolto con rispetto perché è il segno di una vitalità affettiva profonda che noi dovremmo utilizzare al meglio per favorire nel paziente la capacità di amare. Ora iniziamo da Freud che ci introduce a questo tema complesso nel 1910 anno in cui dichiara abbiamo acquisito la consapevolezza del controtransfert che insorge nello psicoterapeuta per l'influsso del paziente sui suoi sentimenti inconsci. Il terapeuta ha il compito di riconoscere in sé questo sentimento per padroneggiarlo. Solo così è in grado di procedere altrimenti resta bloccato a causa dei suoi complessi e delle sue resistenze interne. Da questa munizione di Freud si capisce come sia difficile superare certi sentimenti controtransferali che rischiano di ostacolare il lavoro della terapia. non a caso la nascita del termine controtransfert è associata al transfert erotizzato e riguarda il triangolo Freud-Jung e Sabina Spirain. La conclusione a cui questa vicenda porta è che lo psicoterapeuta può padroneggiare il controtransfert se ha elaborato e risolto i suoi antichi complessi, altrimenti sarà vittima dei suoi vissuti. Si capisce subito che per Freud il controtransfert è uno dei problemi tecnicamente più difficili della psicoterapia. Inizialmente Freud vedeva nel controtransfert una sorta di resistenza nel terapeuta al lavoro con paziente. Ferenzi fu il primo a riconoscere la natura essenzialmente intersoggettiva della relazione terapeutica e quindi l'importanza di un atteggiamento empatico e materno da parte del terapeuta. Per cui per Ferenzi il controtransfert può anche precedere il transfert e serve al terapeuta per accogliere ed elaborare meglio il trauma del paziente. Il trauma però non è solo ciò che è accaduto in passato, ma è anche ciò che è stato vividamente immaginato o fantasticato, ma non è stato metabolizzato. Il terapeuta ha il compito di essere disponibile ad ospitare il trauma dentro di sé. Solo così il trauma potrà mostrarsi. In sostanza il terapeuta deve essere in grado di identificarsi parzialmente con l'immagine degli oggetti infantili del paziente, utilizzando i propri sentimenti, quindi la propria risonanza emotiva che gli permette di ricostruire ciò che un tempo avvenne nel paziente e che viene ora riattualizzato nel presente, proprio nella dinamica transfert contro transfert all'interno della seduta. Quindi il terapeuta deve saper cogliere le immagini primarie che emergono dalla comunicazione effettiva, ovvero dalla comunicazione tra inconscio del paziente e inconscio del terapeuta. Iniziamo quindi a capire, e ce lo spiega bene Jung già nel 1929, come lo psicoterapeuta non debba difendersi dietro una nube di autorità professionale, perché questo atteggiamento gli impedisce di servirsi di un organo essenziale di conoscenza, e cioè della relazione affettiva con il suo paziente. Jung ha sempre sostenuto che tra terapeuta e paziente esistono influenze transferali e controtransferali che operano una reciproca trasformazione. In sostanza per Jung non cambia l'uno se non cambia anche l'altro. Dunque Jung pone l'accento sull'umanità del terapeuta e sulla sua equazione personale, ma soprattutto sulle sue ferite, che gli consentono di essere un bravo terapeuta, in quanto grazie ad esse può comprendere l'esperienza interna del suo paziente, analizzandola e restituendogliela elaborata. Questo è il concetto di ferita feritoia sviluppato da carotenuto, ovvero la ferita del terapeuta costituisce una possibilità di vedere la ferita del paziente attraverso il meccanismo dell'identificazione proiettiva, teorizzato dalla Klein. Infatti il meccanismo dell'identificazione proiettiva è molto simile a quello del controtransfer, soltanto che l'attenzione si sposta dal terapeuta al paziente che proietta. Il processo dell'identificazione proiettiva implica tre fasi, la prima è la proiezione, ovvero il paziente si sbarazza di un contenuto spiacevole e lo proietta nel terapeuta, cioè lo vede dentro di lui. Il paziente proietta questo contenuto negativo per evitare che la sua parte cattiva possa distruggere la parte buona. La seconda fase del processo di identificazione proiettiva comporta una relazione intensa, come ad esempio quella terapeutica o quella genitoriale. Se non c'è questa relazione forte tra i due, allora si parla di semplice proiezione. Dopodiché il terapeuta deve identificarsi nelle proiezioni del suo paziente, deve cioè sentire questo sentimento e deve contenerlo, deve conviverci per un po' e poi parlarne con il suo paziente. Quindi non deve trattarlo anche lui come una patata bollente negandolo o mascherandolo. Questo processo genera nel terapeuta sentimenti nuovi che il paziente potrà poi cogliere e accogliere in sé per prenderne coscienza, interiorizzandoli. Anzi il termine tecnico è internalizzandoli, cioè rendendoli interni. Con il tempo il paziente potrà far sua la capacità del terapeuta di gestire questi vissuti che prima non accettava. Questa è l'internalizzazione. L'aspetto importante di questo processo della psicoterapia è l'apprendimento da parte del paziente di determinate strategie affettive cognitive che il terapeuta mette in atto per gestire gli stati emotivi che vive nella relazione con lui. Questi stati emotivi riguardano ovviamente le aree conflittuali che generano sia sentimenti di odio e sia sentimenti di amore e quindi una relazione umana totale. Lo sviluppo di tale capacità permetterà al paziente di poter sperimentare i suoi sentimenti rimossi. Winnicott ci ha spiegato molto bene che il paziente deve essere convinto che il terapeuta non sarà distrutto dai suoi attacchi aggressivi e quindi conserverà una relazione buona. In questo scenario la relazione trasferale diventa una relazione globale, una relazione genuina tra due persone. Il controtransfert ha la funzione di permettere al terapeuta di intuire il mondo che il paziente aveva sperimentato da bambino e nello stesso tempo gli permette di identificarsi con il ruolo assegnato gli dal paziente, cioè quello di un oggetto interno arcaico che riproduce l'antica relazione oggettuale patogena. Ora può capitare che la posizione di controtransfert sia connessa a conflitti profondi nel terapeuta e allora può succedere che il terapeuta si senta forzato ad assumere una posizione che il paziente gli ha messo dentro tramite l'identificazione proiettiva. Qui c'è D'Aiuto Bion che intorno agli anni 60 modificò il concetto di identificazione proiettiva introducendo quello di contenitore contenuto, ovvero la funzione di reverie tipica della madre, una forma di comunicazione attraverso la quale il bambino comunica alla madre le sensazioni che non sa contenere. Se la madre riesce a elaborarle e a restituirle in una forma più tollerabile e pensabile allora faciliterà il suo sviluppo psichico, in caso contrario si svilupperà una identificazione proiettiva patologica. E qui emerge una nuova funzione del terapeuta che per facilitare questo processo di elaborazione del paziente dovrebbe liberarsi dai suoi complessi e dai suoi conflitti profondi. Ecco perché le successive definizioni di controtransfert, ad esempio quella di Kant, sottolineano la capacità sana del terapeuta di immaginare e comprendere la realtà del paziente. Tutto ciò può avvenire in quanto, come dice Langs, la situazione analitica è un campo bipersonale in cui la mente è vista come un sistema aperto in costante interazione. Anche Searles sostiene che la situazione analitica è interpersonale, per cui sono sempre presenti processi di proiezione e introiezione che sono bidirezionali. Questo significa che anche il terapeuta con il suo comportamento è licita nel paziente specifiche risposte trasferali. Ecco perché, come scrive Bollas, il terapeuta deve essere autentico nella relazione con il paziente, se vuole permettergli di riappropriarsi della propria spontaneità. Ora, una delle funzioni più importanti del controtransfert è quella di evidenziare il non pensato, ossia quell'esperienza che il paziente non ha avuto la possibilità di assimilare e di esprimere. Il controtransfert serve appunto al terapeuta per immedesimarsi nel paziente e far tesoro di questo sapere non ancora pensato. Bern ha chiamato questa capacità intuizione e anche Stern conclude che il comportamento e che il cambiamento soprattutto terapeutico avviene attraverso l'autenticità delle risposte del terapeuta. Ha questo tipo di richieste inconsce del paziente. Quando una risposta autentica viene recepita, ecco che il cambiamento si produce. In caso contrario si osserverà una situazione di stallo. Dunque, mentre inizialmente il controtransfert era considerato la reazione del terapeuta al transfert del paziente, successivamente è diventato il prodotto dell'interazione tra paziente e terapeuta all'interno di un campo di comunicazione, come lo chiama Langs. Anche Cout, in maniera più specifica, ha messo in relazione le caratteristiche della personalità del terapeuta, con le dinamiche affettive che si riflettono nel setting. Si tratta comunque di una reazione inconscia del terapeuta al transfert del paziente dalla sua specifica realtà. Dunque, appare chiaro che le reazioni del terapeuta sono innescate anche dalla sua personalità e dal suo inconscio. In realtà, come spiega Jung, noi dovremmo tenere presente che l'inconscio non è un sistema che distorce la percezione della realtà, ma al contrario permette di cogliere aspetti della realtà in maniera più precisa e puntuale. Inoltre, le reazioni del paziente non sono solo espressione dei suoi conflitti inconsci, ma sono reazioni agli interventi del terapeuta e del paziente. Ciò che è importante in questa interazione tra contenuti consci e inconsci è l'empatia, cioè la capacità di stare con il paziente comprendendo la sua personale prospettiva. Questo lo puntualizza bene Cout. Ecco che il contro-transfert serve per comprendere il mondo emotivo del paziente, ma se questo mondo glielo offriamo subito attraverso l'interpretazione potremmo ferirlo. Spesso è bene fare in modo tale che il paziente arrivi da sé alla comprensione. Come dice Bern, il paziente riattualizza le relazioni vissute nel passato, riproducendo nel setting l'intero scenario infantile, riproponendo nel qui e ora della relazione con il terapeuta i vecchi meccanismi difensivi. Michele Novellino approfondisce questo aspetto parlando del contro-transfert in relazione alla difesa e alla resistenza. La resistenza è l'espressione dei meccanismi di difesa che bloccano l'emersione di materiale inconscio. Invece la difesa è il meccanismo intrapsichico inconscio che serve al soggetto per difendersi dall'emergere di materiale vissuto come pericoloso per l'equilibrio cosciente. In generale le difese sono strategie dell'io contro l'angoscia. Ora, poiché la difesa si esplicita nel transfert, ne deriva che il tipo di difesa messa in atto ci dice in quale fase evolutiva si trova il paziente e quale sia la sua capacità di amare, vivendo liberamente i suoi sentimenti. non a caso Freud vede il percorso psicoterapico come una liberazione delle pulsioni sessuali rimosse, al fine di restaurare la capacità di amare e di lavorare. Ne consegue che il tema dell'amore è al centro delle richieste dei nostri pazienti e diventa il focus del lavoro terapeutico. In uno scritto del 1912 Freud afferma che l'impotenza psichica è una sorta di flaccidità psicologica, cioè una limitazione della capacità di sostenere il desiderio. Il trattamento psicologico è dunque un tentativo di liberare l'amore rimosso che ha trovato nel sintomo una laboriosa soluzione di compromesso. Dunque cosa vuole il paziente? Il paziente spera inconsciamente di poter guarire la ferita di un oggetto primario non sufficientemente buono, come una madre che non ha avuto la capacità di offrire al bambino quel contenimento che gli avrebbe permesso di integrare gli aspetti piacevoli e spiacevoli come l'amore e l'odio. Così il paziente replica inconsciamente lo schema relazionale della prima relazione oggettuale nel tentativo di ottenere ciò che allora non ha avuto. Dobbiamo precisare che qui siamo ancora in una modalità preedibica nella quale la persona è immersa in una simbiosi genitoriale. Freud e ancora meglio Lacan ci spiegano bene come l'ingresso della figura paterna nella relazione simbiotica madre-figlio permette al figlio di uscire dalla dimensione simbiotica fagocitante. Ferenzi sosteneva che se in questa fase il bambino viene sedotto da un genitore entra in confusione, quindi ha paura di uscire dalla dimensione simbiotica e la conseguenza è che non si potrà affermare nella vita. Per affermarsi il figlio deve avere un modello di come fare a vivere senza la madre. Questo modello nella nostra cultura è offerto dal padre. Se il modello paterno non viene interiorizzato il figlio resta invischiato nella simbiosi materna ed è costretto a soddisfare il suo bisogno di sicurezza a scapito dell'esplorazione e quindi non può utilizzare il pensiero per esplorare e per evolvere, anche perché non è consapevole del fatto che le sue azioni sono finalizzate alla soddisfazione delle richieste materne. Non sa che la madre ha bisogno di un amore narcisistico alla cui base c'è il suo senso di inadeguatezza. Ne deriva che il bambino da adulto non può sintonizzarsi con l'altro perché a suo tempo la madre non si sintonizzò con lui e anzi lo intrappolò nel suo incantesimo. Il messaggio paradossale che in questi casi la madre dà al bambino è non devi essere un bambino ma devi essere un adulto per essere degno del mio amore. In realtà la madre non vuole che il figlio sia autonomo ma vuole che non la lasci sola, pertanto non dovrà legarsi con nessuna. In questi casi il bambino non avendo potuto sperimentare il legame sano confonde l'eccitazione e l'idealizzazione con l'amore perché non sa cosa significa essere stato preso in cura, non conosce l'esperienza di un adulto che si prende cura di un bambino sostenendolo nella crescita. Le difficoltà relazionali di questo bambino sono connesse al fatto che amare qualcuno significa essere come l'altro ci vuole. Allora il compito dello psicoterapeuta è quello di accogliere i sentimenti e i pensieri mai pensati dal paziente, restituendoglieli elaborati ed è proprio questa possibilità che gli permetterà di ampliare la conoscenza di sé e di evolvere. Come avviene questa evoluzione, questa elaborazione di pensieri mai pensati? Già nel 1906 Freud scriveva a Jung la guarigione psicologica avviene mediante l'amore. Per Freud l'innamoramento però è il ritrovare l'oggetto edipico che è un oggetto perduto. Lacan arriva a dire l'amore e dare qualcosa che non hai a qualcuno che non conosci. Lo psicoterapeuta si trova pertanto a constatare le potenti forze dell'amore nell'ambito della relazione analitica e si deve sempre chiedere si tratta di resistenza o di uno strumento di guarigione. È un sentimento reale o irreale? Ricordiamoci che per Freud il trattamento psicoanalitico consiste nel liberare l'amore rimosso incapsulato nel sintomo. Diversi psicoanalisti, tra cui Kenberg e Schaeffer, sostengono l'idea che la nevrosi da transfert ha lo scopo di guarire il paziente attraverso la riedizione di un amore passato ma sulla base di aspetti nuovi e quindi sulla base di un nuovo modello di relazione basato sul sentimento. Il terapeuta ha il compito di analizzare questo sentimento, non di agirlo ovviamente, rimanendo a galla anche nei momenti di mare agitato senza perdere di vista la meta, come dice Carotenuto. D'altro canto dove non esiste una passione nella coppia analitica, cioè dove non si sprigiona il transfert e il controtransfert, il processo analitico appare vuoto e senza vita. La vita è fatta di amore e odio, è un miscuglio, così come il transfert del paziente offre una straordinaria opportunità di comprensione del suo mondo interno. Peerls sottolinea l'importanza dell'aggressività che permette al paziente di entrare in contatto con l'esperienza negativa e quindi masticarla ed elaborarla e farla propria. Il bambino ha bisogno di poter modulare l'espressione dell'aggressività grazie alla capacità di contenimento della madre, cioè la madre deve convincerlo che la sua aggressività non l'ha distrutto e quindi che i suoi tentativi di individuarsi sono positivi. Ciò deve accadere anche nel setting, quando il terapeuta favorisce la capacità del paziente di sviluppare un maggiore senso di autonomia. Winnicott sostiene che ciò che conta è la capacità del terapeuta di riparare l'odio dentro di sé, immergendosi in quello del paziente per comprendere che cosa ha vissuto e quindi per comprendere ciò di cui ha bisogno affinché possa oggi permettersi di sentire ciò che gli è stato precluso. In tutto questo il terapeuta non deve comunicare il proprio controtransfert. Infatti, come dice Maud, nel setting la simmetria non riguarda il desiderio ma la comunicazione del desiderio. La situazione terapeutica deve avere la funzione di permettere al paziente di essere consapevole della ricchezza del proprio desiderio, grazie alla presenza di un terapeuta capace di accogliere e contenere il desiderio erotico. Ed è proprio questo lo specifico della situazione terapica, psicoterapica. Al termine di una terapia riuscita il paziente sente di essere stato amato, cioè sente che il terapeuta si è occupato di lui, l'ha aiutato a scoprire la sua verità e ha promosso la sua individuazione, ha cresciuto la sua capacità di amare, rendendolo più consapevole di questi sentimenti, altrimenti c'è solo proiezione e desiderio di possesso. La domanda quindi è esiste una cura d'amore? L'amore cura? Beh, direi di sì. Arrivederci.